Dopo l'attacco hacker che ha messo in ginocchio l'Asl Aquilana, le altre aziende sanitarie della regione sono corse ai ripari, cercando possibili falle nei propri sistemi di sicurezza informatica per evitare che eventuali indebolimenti possano tradursi un domani in nuove criticità. La diffusione dei dati sensibili degli utenti dell'Asl 1, che ha fatto esplodere la psicosi per possibili ricatti e truffe, rappresenta una delle violazioni collettive della privacy tra le più gravi mai registrate a livello nazionale, con conseguenze che si conosceranno solo nel lungo periodo. Intanto l'azienda sanitaria aquilana ripristinata i servizi torna lentamente alla normalità, mentre le altre Asl mettono in campo misure di prevenzione per tutelarsi da altri possibili attacchi futuri. A Pescara il direttore generale della Asl, Vincenzo Ciamponi, parla di standard di sicurezza medio-alti, tranquillizzando gli utenti. Come direzione strategica, con il direttore amministrativo, con il direttore sanitario, con l'ingegnere De Benedictis, dopo l'incidente dell'Aquila ci siamo incontrati all'interno dell'Asl, abbiamo fatto una checklist delle probabili criticità. Poi nei giorni successivi, con l'input del presidente Martiglio, è stata costruita un gruppo, una task force per esaminare a livello di tutte le Asl, quello che era bene fare. Abbiamo riverificato la checklist dei controlli e al momento siamo in una situazione di standard medio-alto. Certo, come ho già detto, gli hacker hanno attaccato il Pentagono, quindi bisogna capire che tipo di attacco vogliono fare. La nostra sicurezza comunque rispetta gli standard. Abbiamo fatto già degli investimenti nel corso del tempo, vorremmo potenziare la sicurezza e negli investimenti in hardware, in software e sicuramente in risorse umane. I dati personali, quindi, degli utenti sono al sicuro? Al momento sono garantiti. Il cittadino può fare qualcosa per sentirsi più sicuro? Il cittadino deve essere sicuro. Attualmente i dati sono garantiti, quindi la privacy è garantita.